Casa nello spazio, identificati! Sono uno spaziale abitato artificiale domotico intelligente, o shady in breve. Sono ad attivazione vocale e controllo tutto ciò che c'è in casa. Casa nello spazio, apri il mobiletto. Oh! Forte! Attenzione Titans, gli altri ospiti sono appena arrivati. Altri ospiti? Voi non siete gli unici in un unico universo ad aver ricevuto l'invito. Altri ospiti da un altro universo? Titans, preparatevi! Non abbiamo idea di cosa entrerà da quella porta spaziale. Le DC Super Hero Girls! Ehi, ciao! Oh, che bello! Il sospiro di sollievo non sarà necessario distruggerle. E noi non dobbiamo distruggere voi? E ci riusciremmo di sicuro, perché siamo più di voi? No, vinceremmo noi in una lotta. Tu, per esempio, non puoi competere per niente con me. Oh, dici sul serio? Ma non mi dire. Ehm, sì, sono migliore probabilmente in tutto. Oh, sì? Salto all'indietro! Triplo salto all'indietro! Una stampante 3D che krasna! Incredibile, vero? Anche la modalità non-OGN. Oh, sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda! Sono il migliore! Proprio no! Ci divertiremo tanto insieme in questa vacanza spaziale. Di certo niente potrà rovinarla. Ehi, dico bene, Batgirl e Robin? Ah, va bene, come vuoi, ok! In realtà sarebbe sufficiente un piccolo meteorite per rovinarla. Ah, ecco che ci risiamo. Basterebbe questo per infrangere la cupola di vetro, per essere tutti quanti risucchiati nel freddo e oscuro vuoto spaziale. Non ascoltate, Bumblebee. Lei ha davvero tante paure irrazionali. Attenzione, ospiti! Che terribile stregoneria è questa! Non è affatto una stregoneria. Ecco è il Shady. Questa casa è artificialmente intelligente. Sono felice di informarvi che potete scegliere le vostre camere da letto. C'è solo un modo per farlo correttamente! Ognuno pensi a sé! Io prendo quella con la vista! Io la camera senza gravità! Noi col bagno abbiamo mangiato troppi cibi stampati! Già, ci servirà un po' di privacy! Questa stanza fa al caso nostro! Forte, un materasso ad acqua! Oh, il mal di mare! Se mori spessi, bene, non potrò oltrepassarli nel sonno. Io prendo questa è troppo forte! Il sistema di intrattenimento di questa camera può creare gli ologrammi. Bene, vediamo una proiezione di casa mia. E mischina! Oh, gattino! Suppongo che ti piacciono i gatti. Beh, io prenderò l'unica stanza rimasta. Non è proprio accogliente. In realtà, i soffitti a vista e le finiture metalliche sono molto alla moda.